Nel video di oggi, vi mostrerò un semplice rimedio per alleviare i vostri dolori alle ginocchia. Ma prima di iniziare, assicurati di iscriverti e di attivare la campanella delle notifiche. Molte persone hanno dolore alle articolazioni, alle ginocchia, ai gomiti e alle mani, ma pensano che ciò sia dovuto all'invecchiamento. Se hai questo problema, questo succo di cannella, ananas e arancia è un rimedio naturale, altamente efficace per trattare e alleviare il dolore alle ginocchia e alle articolazioni. La vitamina C presente nell'ananas e nell'arancia è essenziale per le ossa. L'ananas contiene anche grandi quantità di bromelina, un antinfiammatorio che aiuta con i dolori articolari. La cannella aiuta il sangue a fluire in modo più efficiente attraverso il corpo e il succo d'arancia rafforza i legamenti e i tendini. Per preparare questa bevanda, avrai bisogno di 2 tazzine di ananas a cubetti, una tazza di fiocchi d'avena, 2 tazze d'acqua, un bicchiere di succo d'arancia, una stecca di cannella, miele. In una padella aggiungete l'acqua e i fiocchi d'avena e fateli cuocere per qualche minuto. Dopo che l'avena è cotta, lasciarla raffreddare. Aggiungere la farina d'avena, il succo d'arancia, la cannella, l'ananas e il mele in un frullatore. Mescolate il tutto e aggiungete un po' d'acqua se volete che il succo diluisca. Per risultati migliori, si consiglia di bere il succo ogni giorno. Dopo 5 giorni, dovresti notare un alleviamento totale dei dolori al ginocchio e alle articolazioni. Se ti è piaciuto il video, metti mi piace al video e condividilo con i tuoi amici. Clicca sul link in descrizione per scoprire fantastiche offerte.